Allora, dottor Fracassi, la squadra è pronta? Cominciamo a lavorare? Già fatto, viene già cominciato, quindi cominciamo sicuramente nel migliore dei modi. Tante cose da fare, grandi problemi da risolvere, tanto lavoro da fare. Anche tanto entusiasmo, sento. L'entusiasmo c'è perché c'è da far rivivere una città, questa è la cosa più importante, siamo qui per questo e quindi è una grande scommessa che dobbiamo vincere obbligatoriamente.